Buonasera Una sconfitta che vi ha fatto arrabbiare o abbiamo captato male? Per alcune decisioni Non so, secondo me è una domanda apposta giusta Abbiamo captato male? Si ho capito ma se lei mi dice ho captato male Se mi sta tirando in giro mi dica di che cosa vuol parlare Allora riformulo la domanda in maniera educata Che io mi sono presentato in maniera educata e poi io le rispondo Eh no mi dice ho captato male, cosa vuol dire? Parliamo della partita La partita avremmo potuto far di più Perché abbiamo portato la palla in aria tante volte E là stanno i nostri margini di crescita E' chiaro che è una partita Già ieri io avevo presentato la partita Definendola molto 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 difficile Perché già l'ambiente Venire qua a giocare non è facile È un ambiente che ha cambiato l'allenatore L'allenatore del posto Tra l'altro è un allenatore che stimo molto E con giocatori appena arrivati E quindi ci aspettavamo una partita molto difficile L'abbiamo fatta bene Per quello che ha detto il campo Avremmo potuto farla meglio Sicuramente i margini di miglioramento sono tanti E ci sono stati anche quei due, tre, quattro episodi Che lei ha captato bene Che ci ha dato e ci dà abbastanza fastidio Perché rigore inesistente Perché il fallo di Berardi Adesso ho appena rivisto con l'ufficio stampa nostro del Sassuolo Un'immagine dove i tacchetti vanno sul polpaccio di Berardi Non voglio entrare nel gon annullato a Diuricic Perché non conosco le varie evoluzioni del fallo di mano Perché questo cambia di anno in anno Mi sembra che ci fosse un rigore su Traoré Sull'uscita di Perin E quindi siccome sono determinanti ai fini del risultato questo qua Questi episodi Siamo rammaricati molto Perché danno fastidio Danno fastidio che i miei giocatori non vanno a protestare Perché dalle disposizioni di Rizzoli Ci è stato chiesto all'ultimo incontro Di aiutarli nella direzione di gara E quindi di non portare tanti giocatori a protestare L'abbiamo fatto Il guardia linea mi ha detto Dieci minuti prima della partita Mister siete ineccepibili E ho capito però Ineccepibili cosa vuol dire? Che noi dobbiamo accettare tutto? Oppure Non ho capito in cosa dobbiamo essere ineccepibili? Ciao Roberto A proposito della prestazione Cosa è mancato soprattutto Diciamo nella tre quarti del Genoa? È più una questione di scelte o di tempi? A me sembra che il penultimo passaggio fosse sempre un attimino ritardato Che non si arrivasse poi con la cattiveria giusta Quindi più anche un problema tecnico Magari un po' di Non chiamiamola leggerezza ma Un momento di scarsa cattiveria Scarsa incisività Ma nel secondo tempo abbiamo avuto forse ancora più occasioni che nel primo Al di là del colpo di testa di Traoré E di qualche uno contro uno non è andato a buon fine Invece nel secondo abbiamo avuto Caputo due o tre volte Una si è ostacolato con Traoré E ha freschiato il fuorigioco Che probabilmente Caputo non sarebbe stato in posizione regolare Era regolare E due o tre volte Diuricic in campo aperto Ha sbagliato scelta completamente E certo che lì noi dobbiamo migliorare E' vero che la mole di gioco che produciamo Poi ti fa pensare che il risultato Debba sempre andare a tuo favore Però poi dopo ci portiamo tante volte negli ultimi 20-30 metri E ancora non riusciamo a avere la lucidità La determinazione Non so troviamo l'aggettivo per chiudere le partite Quando possiamo chiuderle anche Altre domande? Porta così? Grazie 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 Grazie